ciao amici oggi ho voluto cambiare look guardate guardate mi sono vestita da punk ma secondo voi mi sta bene secondo me non mi dona quindi vado subito a cambiarmi ma mi sono vestita da punk mi è venuta un'idea nel frattempo io vado a cambiarmi voi iscrivetevi al mio canale e dopo andiamo a fare insieme i pancake salati andiamo per fare pancake salati ci serviranno 200 grammi di farina 200 ml di latte due uova una bustina di lievito per torte salate sale e pepe inoltre per farcire ci serviranno delle fette di salame e del formaggio spalmabile iniziamo mettendo le uova e il latte in una ciotola iniziamo a mescolare aggiungiamo sale e pepe a questo punto uniamo il lievito alla farina mescoliamo e aggiungiamo poco per volta il composto una volta che si sono amalgamati per bene tutti gli ingredienti trasferiamoci ai fornelli in una padella mettiamo una noce di burro una volta fatto iniziamo a cuocere i nostri pancake a fiamma moderata facciamo cuocere da entrambi i lati una volta ben dorato da un lato giriamo dall'altro e voilà il nostro primo pancake è pronto proseguiamo così fino alla fine dell'impasto una volta cotti tutti i pancake andiamo a farcire prendiamo una fetta formaggio spalmabile e una fetta 2 di salame e un'altra parte chiudiamo quindi il nostro pancake proseguiamo così con tutti gli altri il mio pasticcio è pronto i pancake salati possono essere farciti in molti modi diversi in base ai vostri gusti e perché no anche con delle salse a vostro piacimento nell'info box vi lascio anche il link dei pancake dolci provate a farli anche voi io vi aspetto i prossimi video ciao